Il Paradiso delle Signore Otto, Farnesi e Gravina al silenzio, ci sarà la nuova stagione. Quale sarà il destino del Paradiso delle Signore Otto nella prossima stagione televisiva Rai? E questa la domanda che si pongono i fan della soap opera pomeridiana che vede protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina. Un grande successo che stagione dopo stagione ha saputo conquistare il gradimento del pubblico. Risultando uno degli appuntamenti di prestigio del palinsesto pomeridiano della rete Ammiraglia. In merito al futuro della soap a fare un po' di chiarezza sono stati gli interpreti di Umberto Guarnieri e dell'Aidea di Sant'Erasmo. Da pochi giorni si sono concluse le riprese della settima stagione del Paradiso delle Signore. Dopo la riapertura del set a partire dallo scorso giugno, gli attori sono stati impegnati sul set romano della soap opera fino a fine gennaio. L'appuntamento in televisione proseguirà fino alla prossima primavera, il gran finale è previsto su Rai un solo tra aprile e maggio 2023. Intanto i telespettatori della soap opera si chiedono già quale sia il futuro della soap e se ci sarà l'ottava stagione. Fino a oggi i vertici della TV di Stato non si sono espressi ufficialmente su quello che accadrà nel corso della prossima stagione televisiva 2023-2024. I reti sono circolate indiscrezioni legate alla riconferma dei programmi del pomeriggio come oggi è un altro giorno e la vita è in diretta. Ma niente informazioni sulla soap opera campione di ascolti. A rompere il silenzio ci hanno pensato due volti simbolo della serie ambientata nel grande magazzino milanese. Trattasi di Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, i due interpreti del Paradiso delle Signore hanno fatto chiarezza su quanto succederà nella prossima stagione televisiva. Confermando la messa in cantiere delle nuove puntate. Farnesi lo ha fatto condividendo sui social uno scatto dalla festa di fine di produzione con tutto il cast della soap opera. Dove veste i panni del tenebroso commendatore Umberto Guarnieri. Arrivederci alla prossima stagione, ha scritto Farnesi sui social, confermando così la realizzazione dell'ottava serie. Vanessa Gravina invece, intervistata dal settimanale Intimità, ha svelato che il suo personaggio uscirà di scena nel corso del gran finale della settima stagione, ma tornerà in quella successiva. Anche l'interprete di Adelaide ha così confermato l'ottava stagione del Paradiso delle Signore per la gioia dei milioni di spettatori che seguono la soap in tv e streaming. Mafia, parasiții, dragonu, maxi, gespe, chimie, rimaru, spike, buia, si, swapo, grasul, nimeni altu, delvede, sau carpo. Tre'i să vă mănânci versi cu versi card intens, tre'i să crezi, crezi ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor, de zici că mă bar cu boss-ul, la câte urât sunt, cum să vă iau cu frumos-ul. Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie, când adun cuvinte din domn, mă pun, le pierd la o mie de grade Celsius, să rămână spus și să se știe, nu-i nimeni ce lumea. Nu-i mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie unul.